Conosci un regalo migliore di una fantastica esperienza al ristorante? Quando vuoi? Dove vuoi? Noi no! E visto che non esisteva, l'abbiamo creato con la gift card di The Fork. Fatti un regalo o donala a chi ami e vai al ristorante con chi vuoi. Vivi fantastiche esperienze e gusta piatti deliziosi in più di 15.000 ristoranti. E per pagare? Usa la tua gift card! Acquista la tua gift card ora su thefork.it Grazie per la visione!